SON BENISSIMO SON BENISSIMO SON BENISSIMO SON BENISSIMO SON BENISSIMO La nuova creatura! Facciamo il bene a mettere al mondo un figlio. Il nostro figlio non avrà nessun problema nel nostro cuore. Troveremo che ha ucciso Umberto. Te lo prometto. Chiederò un trasferimento. Dove vorresti andare? Ovunque. Andrò dove nessun altro vuole andare. Non deve succedere mai più che colpisca un agente. Lei è un altro membro dell'amministrazione. Isolamento! Tu come stai? Non riesco a capirlo. Beh... male. Riusciremo a far luce anche su Umberto al Mide. Pag. Pag. Grazie a tutti.